Sono una studentessa che ha partecipato nella realizzazione del calendario 2018 in collaborazione con Ampi. L'argomento di questo calendario erano le donne durante la resistenza. Difatti ognuno di noi aveva il compito di fare delle ricerche riguardo ogni donna e successivamente realizzare l'illustrazione sia dei mesi e anche della copertina del colofon. Questa collaborazione e di conseguenza anche lavoro è stata molto bella e stimolante perché ci ha permesso di approfondire e conoscere meglio un argomento di cui non sapevamo molto e che non era neanche tanto trattato. E quindi è stata un'esperienza appunto bella, creativa e che ci ha permesso di rendere voce, parlare di queste donne che comunque hanno partecipato alla ricostruzione del nostro paese durante la resistenza.